San Francesco nacque ad Assisi, l'anno 1282, da Pietro Bernardone, e da Madonna Pica, ricchi commercianti. La sua nascita fu circondata da avvenimenti misteriosi. Un mendicante, presentatosi a Madonna Giovanna Pica, pochi giorni prima della nascita di Francesco, le disse «Fra queste mura spunterà presto un sole». Il giorno stesso della nascita, essendo la madre oltremodo accasciata per i dolori del parto, un altro pellegrino le disse «Tutto andrà bene, purché la madre sia condotta nella stalla». E così avvenne. Un altro giorno fu udito per le vie di Assisi un romito che gridava «Pace e bene, pace e bene». Il futuro motto di Francesco. La dolce Madonna Pica taceva e pregava pensando «Cosa mai sarà di questo fanciullo così prediletto da Dio?». La grazia di Dio intanto lavorava. Un giorno gli amici, vedendolo assorto, gli domandarono «Pensi a prendere moglie?» «Sì», rispose Francesco, «e sposerò la donna più bella e più amabile del mondo». Si riferiva a «Madonna povertà». Una mattina è colpito, in una chiesetta di campagna davanti al crocifisso di San Damiano, da un brano del Vangelo che dice «Non tenere né oro né argento né altra moneta, non borse, non sacchi, non due vesti, non scarpe, non bastone». Fu allora che il crocifisso gli parlò con commovente bontà. «Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando?» Tremante e stupefatto, il giovane rispose «Lo farò volentieri, signore». Egli aveva però frainteso. Pensava si trattasse di quella chiesa che per la sua antichità minacciava prossima rovina. Per quelle parole del Cristo egli si fece immensamente lieto e raggiante. Sentì nell'anima che era stato veramente il crocifisso a rivolgergli il messaggio. Si spogliò dunque di tutto, diede quanto aveva in elemosina. E a suo padre, che l'aveva citato davanti al vescovo, diceva rendendogli anche i vestiti «Finora ho chiamato Pietro di Bernardone mio padre. D'ora in poi a maggior ragione dirò «Padre mio che sei nei cieli». Esce all'aperto e immediatamente mette in pratica il consiglio evangelico. Si scalza, si infila una tunica contadinesca, getta la cintura di cuoio e al suo posto sannò da sui fianchi una corda. La cintura di cuoio era nel Medioevo la parte più importante dell'abito, tanto importante che Dante. Quando vorrà lodare la rude semplicità dei vecchi fiorentini, li dirà «cinti di cuoio ed osso». Da quel giorno l'eroismo di Francesco non ebbe più limiti. I poveri, i lebrosi, gli ammalati di ogni specie furono la sua parte, eletta. All'inizio del 1209, Francesco, assieme ai suoi adepti, si riunì così in una capanna nella località di Rivotorto, nella pianura sottostante la città di Assisi, presso la Porziuncola, iniziando così la prima scuola di formazione, dove, oltre ad insegnare i suoi principi fondamentali, istruì i discepoli alla questua per sostenersi e per riparare le chiese danneggiate. Dove passò, portò la benedizione di Dio, la pace fra le fazioni e l'amore fra i nemici. Convertì peccatori, salvò miserabili, protesse oppressi. Benedetto dal Papa, estese ovunque e da tutti la sua opera. Istituì le clarisse, fondò e diffuse il terzo ordine. Andò in Egitto e Palestina per far cessare le ostilità tra i due popoli. Mandò apostoli dappertutto a portare pace e bene. All'Averna, Dio impresse sul suo servo fedele il segno del suo amore, le sacre stimmate. Compose l'audi in onore del suo Dio, perché esclamava, l'amore non è amato, l'amore non è amato. Morì, benedicendo i suoi figliuoli e la sua cara città di Assisi, il 3 ottobre 2026. Fu chiamato il più santo degli italiani e il più italiano dei santi, assieme a Santa Caterina da Siena e il grande protettore della nostra amata patria. Preghiera. O Dio, che per i meriti di San Francesco accrescesti la tua chiesa di una nuova famiglia, concedici di disprezzare a suo esempio le cose terrene e di poter partecipare alla gioia dei doni celesti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sottotitoli e revisione a cura di QTSS